Il ritorno di Maria a Pontevieco L'emozione e la sorpresa di Alfonso sono immense, Maria gli sorride e chiede. Non volete abbracciarmi dopo così tanto tempo? Alfonso dunque abbraccia teneramente sua figlia, che mai avrebbe pensato di vedere. Ma Maria è tornata per il bene di sua madre Emilia, che in prigione essendosi accusata dell'omicidio di Sol, ha bisogno di aiuto. Grazie a tutti!